Buonasera cittadini italiani mi hanno chiamato dicendomi che a breve avrete le elezioni ma non pensate mica di votare quei soliti quattro non pensate mica di votare Bersani, Grillo, Casini non pensate mica di votare Berlusconi credevo che quest'anno il mio bistrello sarebbe stato l'unico cavaliere che sarebbe tornato e invece di nuovo qui in mezzo a noi quest'anno però non farete più tornare l'Italia nel caos quest'anno mi candido io e vedrete che con un po' di benzina l'Italia tornerà su diretta via quest'anno non potrete con Barzelletti perché sennò state certi che ve lo metto io un sorriso su questo bel faccino quindi condividerete questo video perché qui si tratta solo di mandare un messaggio e questo è il messaggio del Joker e voi quest'anno quando andrete al giù muterete me e sapete perché? Sapete? Sapete perché muterete me? Perché almeno che io sei un criminale e lo sapete già, no? Ahahahahahahha Grazie a tutti.